un te cosa vuoi mi sbilancio no lukaku e no abram per il milan e poi ancora stadio under 23 e notizie mercato tutto questo dopo la sigla ciao a tutti e benvenuti questa nuova puntata il calcio secondo giovanni ricordo di mettere un like al video vi ricordo di scriver via dna rossino tv è completamente gratuito basta cliccare su stasso iscriviti attivare la campagna in questo modo sarete aggiornato tutto ciò che riguarda il milan in tempo reale alcune volte inclinate prima tramite nostre dubbiche giornaliere tramite le nostre live martedì giovedì sera non vi sto a ricordare stasera dalle 22 una puntata dna team dove parleremo di tanto milan ma non solo di milan e poi potete essere in interazione con noi tramite la chat durante la trasmissione del video e durante la trasmissione alla live e a fine video potete lasciare un commento nella sezione commenti a cui cercheremo rispondere il prima possibile generalmente potete aiutare i canali tramite donazioni con paypal all'indirizzo di anni a rossonero dal 1899 che c'è gmail.com e potete scrivere la stessa email per avere informazione per avere gli ultimissimi cappellini di dna rossonero tv che vedete in fondo al questo video vi ricordo anche che di iscrivervi a soccer zone 360 abbiamo superato abbondantemente le 500 iscrizioni e adesso andiamo verso le mille quindi ringraziamo chi di questo canale si è iscritto e invito gli altri a iscriversi il canale sul calzone 360 che parla di calcio in generale non di milan perché in milan parliamo qui ma penso che a un tifoso del milan interessa anche sapere cosa gira attorno al milan quindi iscrivetevi anche quello è gratuito quindi vi invito a farlo parliamo oggi un po di tante cose tante cose sono venute fuori questa questi 24 ore diciamo che allora partiamo da under 23 iniziamo alle 23 domani ci sarà il consiglio di lega in cui sarà ufficializzato la partecipazione alle 23 del mina al prossimo campionato di serie sci e con l'occasione saranno anche stabiliti i gironi come sapete sono tre le squadre alle 23 della serie a quindi juventus atalanta e milan che dovranno essere divisi in questi tre gironi teoricamente doveva essere fatta una suddivisione a livello territoriale quindi si può vedere c'era una delle 23 del napoli sarebbe andato sicuramente in girone c certo tutte tre del nord sarà attuato un sorteggio quindi sarà una capitale girone c5 giorni al sud una girone b che un centro centro nord centro e una invece di gira nord che sarebbe giro nea per quanto guarda nel 23 ci sono già dei primi sentori di acquisti a meno lì ci sono spalle tre giocatori che sono pagliate attualmente da il nuovo dds kirovski che è stato preso appunto da los angeles da ibrahimovic che sarà lui a dirigere l'under 23 tutto sport parla di tre punto giocatori due dal gianna erminio che sarebbero gabriele minotti che è un difensore e baric falla che invece è un attaccante e poi sarebbe un terzino da foggia che è ben definito dal giornale terzino goleador che è manuele salines vi dirò prossimi giorni chi sono questi giocatori ho visto così velocemente l'attaccante punto fall che sinceramente non mi sembra grande attaccante però può darsi che sia una riserva eventualmente quando non giocare a camarda per dare un'alternativa probabilmente quindi secondo me servirà per fare numero soprattutto le prime partite si giocheranno a bussarsizio allo stadio speroni fino a che non sarà pronto e lo stadio sorbiate che poi vicinissimo a milanello a quel punto lì andranno a giocare punto a sorbiate veniamo poi a quello che riguarda lo stadio san siro parliamo uno stadio nuovo del mina sapete che punto vi build è stata con lei stata incaricata di esprimere fare un progetto di strutturazione dello stadio è stato presentato due tre giorni fa e milan interno ancora una settimana tempo per dire per dare approvazione oppure no bene ieri è uscita una nota da parte dell'ordine architetti della provincia di milano in cui esprimevano appunto contrarietà sul rispetto al progetto di we build perché diciamo loro aspicavano che se ci fosse appunto una strutturazione dovrebbe essere fatta tramite un concorso un concorso di progettazione e in modo tale che garantisse questo la trasparenza la meritocrazia del progetto e anche il pregostituimento diciamo di il massimo interesse pubblico logicamente vedere un progetto così dato da una società incaricata sembra dal sindaco sembrerebbe non so non tramite un concorso non è una cosa che sinceramente massima trasparenza dice altrimenti questa nota dice che nel caso in cui non fosse possibile effettuare questo concorso l'importanza è comunque di mantenere la trasparenza delle procedure di assegnazione e il garanzia di una chiara visibilità delle ricadute sul quartiere e anche sulla città quindi un campanello d'allarme che suona comunque per il sindaco sala perché comunque se anche se anche l'inter e milano approvasse spero e proprio di no che quanto meno in milano non approvi non è una situazione normale affidare una cosa pubblica un intervento una cosa pubblica senza un concorso precedente è venuta subito vi build dicendo che il suo era uno studio fattibilità che è completamente gratuito per entrare in mira e direi vorrei anche vedere è stato presentato solamente per valutare la fattibilità tecnica ed economica comunque primo campanello d'allarme quindi non è tutto rose e fiori we build e la famosa ristrutturazione veniamo poi al mercato ci sono voci mercato sono due notizie secondo me anche veramente da fare festa se fossero vere o dei dubbi comunque allora sono due notizie che vengono per due giocatori che diciamo che non rientrano fra i top giocatori del milano parlo di orighe valutori allora per quanto riguarda orighi sembra ci sia un interessamento di qualche squadra turca per valutori invece ci sarebbe un interessamento di una squadra inglese di championship quindi seconda serie che sarebbe watford che abbia fatto una richiesta al milano logicamente questo bisogna vedere se gioco se è vero se il giocatore deciderà decide di poter andare in seconda serie giocata in watford penso per in mina sicuramente non aspetterebbe altro quindi comunque sono queste due notizie di mercato sarebbero valutate e bisogna vedere se poi sono vero oppure no per quanto riguarda altro mercato si parlato di rabiot in cui sempre tutto sport parla che mina con moncada avrebbe pareggiato l'offerta di giuntoli della juventus a 7 milioni e mezzo di stipendio netto mentre giunti per tre anni mentre giunti li avrebbe fatto solamente l'ultimo anno però l'intenzione da parte giocatore e della madre procuratrice è quella di aspettare la fine degli europei in modo tale da valutare eventualmente offerte di squadre che potrebbero offrirgli di più non credo che minan abbia offerto niente per rabiot secondo me perché è un ingaggio che secondo me è fuori fuori dal minan come livello quindi non penso proprio è solamente l'inesima tattica da parte della mamma di rabiot di dare in pasto ai giornali notizie per far pubblicare per far vedere a juventus che c'è qualcun altro oltre lei in mina io penso di no veniamo anche a questo punto alle notizie che appunto riguardano che avete visto anche nel titolo dove mi sbilaccio abbastanza sapete che io non ho mai creduto anche lo scorso anno dissi all'arrivo di lupaco al milan così come non credo quest'anno che ci sia una possibilità e così come non credo che arrivi avrà oggi anzi a di sera è uscito un articolo da parte daniele lungo sul calciomercato.com che mi dà ragione dunque dice innanzitutto che lupaco è stato proposto da intermediari perché non esiste la mia impossibilità che rimanga al celsi quindi celsi guardarlo via e quindi i vari procuratori i vari intermediari cercano di offrirle al mondo intero così come fu fatto l'anno scorso profetto al minato parte da juventus e poi andò a roma lukaku per conto suo non avrebbe nessun problema dire sì al milano ma grado che nel 2021 sky sport disse che non sarebbe mai stato né a milan e nella juventus coerenza logicamente che testimonia la serietà del giocatore lukaku diciamo del valdeberdia solamente a titolo definitivo con riguardiamoci fu acquistato dal celsi nell'agosto 2021 con un 115 milioni 112 milioni di euro ed ha una clausola di 38 milioni di sterline quindi all'incirca un 42 milioni che celsi vuole fare il mina logicamente a quelle cifre non ci pensa minimamente ma secondo me non ci pensa nemmeno in altre cose secondo lungo sarebbe disposto a coprire i parametri lo stipendio con il decreto riescita che ancora sarebbe rimasto di 7 milioni e mezzo però in prestito oneroso e nient'altro quindi diciamo diciamo che alla fine lukaku secondo bene lungo è solamente una successione sono inventato da giornali così come avram si perché anche avrà mai sui discorsi preparatori stanno cercando di vagliare possibili interessi da parte di altre squadre ma un giocatore si rotto un crociato stato molto fermo e al rientro ha fatto un gol in otto partite sicuramente non è più la fama del primo anno che sicuramente era giocatore che poteva anche interessare oggi è un punto negativo c'è avrebbe essere preso solamente per fare la riserva a una punta una nuova punta ma non per giocare da titolare non possiamo iniziare un campionato con la gramma col punto di ragazzino grosso così l'attaccante deve essere una soluzione certa affidabile e non un giocatore della infortuna così importante che ancora non si è ripreso quindi come ho già detto anche per me lukaku non esiste una trattativa lukaku secondo me non è per nulla interessato perché 31 n giocatore che avete visto in che condizioni è quest'anno agli europei ha giocato veramente male ha continuato a fare i portieri delle squadre avversarie poi mi direte si ha fatto gol nella roma quest'anno sì ma ci sono state anche partite in cui è stato inesistente ecco sinceramente quindi non è un giocatore da spendere soldi in milan per un giocatore di 31 anni non rientra nelle specifiche quindi non arriverà non arriverà lui non arriverà sicuramente nemmeno abram per quanto riguarda invece altre riuscite si parla di ogni caso sarebbe interessato oltre che a tomori di ciò tomori dice che mi hanno risposto 50 milioni su ciò ancora non si hanno notizie però si parla tutto sono postato al primo luglio perché prima perché primo luglio il mio caso spera di essere a posto con per quanto riguarda i suoi debiti perché diciamo deve rientrare di circa 40 milioni entro 30 giugno perché se no potrebbe essere penalizzato avere multe verbi bloccato anche il mercato d'entrata perché non rientra nel free play finanziario per quanto riguarda la premier league quindi anche qui sono voci secondo me da bagliare secondo me tomori non è un giocatore da vendere giocatore che fino a che non sei fortunato ha fatto bene quindi sarebbe da mantenere sicuramente in organico del milan veniamo poi all'ultima notizia parliamo di conte conte ieri è stato fatto bagni di fuori da napoli in piazza di prediscito eccetera eccetera insomma tutto una grande grande show e ha detto riferendosi probabilmente alle parole di ibra e lui conte è un allenatore è un manager che deve decidere sull'aspetto tecnico sull'aspetto che vogliamo un po di copri per bene perché uno vorrei ecco su aspetto tecnico e gestionale voglio avere voci in capitolo da altre parti questo poteva dare fastidio è una risposta un po stizzita forse dal mancato arrivo di conte a milan a juventus praticamente e questo testimonia secondo me ancora di più la bontà della scelta del milano sono tanto fonseca ma di non prendere conte perché si ribadisce quello che avevamo alcuni avevano prospettato di una persona comunque sicuramente sicura di sé un po arrogante che vuole essere lui a decidere a livello di acquisti giocatori a livello di gestione di giocatori eccetera eccetera io più che la decisione cioè deve essere secondo me una compartecipazione decisione cioè non puoi essere messo te a dire chi comprare chi non comprare perché noi soldi non sono tuoi non può essere te a dire alcuni acquisti di vendere il giocatore oppure notte poi può partecipare a decisione ma non è te non sei il manager della squadra ci sono altre che sono madre ma c'è questa squadra inoltre se ricordiamo le conferenze stampe di bradino dice disse che per i giocatori che aveva adesso il milan fosseca era l'allenatore migliore perché conte poteva anche venire altri giocatori potevano venire anche ad allenare in milano ma era un adattamento che comunque faceva sì di non partire proprio di giusto perché erano non erano i giocatori che conti ad esempio gli altri giocatori avrebbero voluto quindi sia come modulo di gioco che come giocatori stessi abbiamo visto che le prime richieste di conte se andasse via osyman sarebbe quella di prendersi lucano questo per dire che non cambia niente quindi vari modi di novità c'era intanto ha messo il vincolo di rimanere sia al vodka che a di lorenzo che acqua la scala per ora non sembra molto intenzionata rimanere del lorentis partito della germania per cercare di trovare un accordo sullo stipendio quindi anche qui arriva conte qua la scala rimane probabilmente a uno stipendio molto maggiore di quello che era disposto in napoli a pagare quindi sono già soldi in più e poi vediamo che campagna acquisti può fare napoli perché così ma per ora non va da nessuna parte che sono di me non vale nessuna parte soldi per comparsi buongiorno e altri giocatori non ci sono quindi vediamo vediamo un pochino il ricordo stasera alle 22 dna team ricordo iscrivervi a dna rosso nero tv e a soccer zone 360 entrambi attivate la campanella per essere avvertiti noi ci vediamo stasera 22 mi raccomando non mancate sempre in tanti e numerosi ciao a tutti buona giornata e sempre forza milan da giovanni ciao